In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Arriva la settimana da capitale della cultura di Belforte all'Isauro. Dal 13 al 19 maggio, infatti, saranno loro i protagonisti del progetto 50x50 di Pesaro 2024, con un calendario dal titolo Festa della Sostenibilità, che come già il nome lascia intendere, sarà interamente incentrato sulla natura e sull'ambiente. Le iniziative riguardano la sostenibilità, la materia che in questo momento ci sta prendendo, specie noi dell'associazione, che da sempre lavoriamo con i materiali di recupero, lavoriamo con le forze di lavoro di soggetti che hanno tempo da dedicare. Quindi il nostro progetto si chiama Colora il Tempo. Questa settimana speriamo che regali al Paese, a tutti quelli che intervengono, una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere gli stili di vita per aiutare il pianeta a sostenere il consumo che noi stiamo facendo. Solo se pensiamo che l'Overshot Day quest'anno l'Italia lo festeggia, tra virgolette, il 19 di maggio, quindi noi in Italia avremmo esaurito le risorse rinnovabili del Paese il 19 di maggio, questa cosa ci deve fare un pochino preoccupare e ci deve far riflettere. Allora questa è una festa, quindi non pensiamo di insegnare niente da nessuno né di fare approfondimenti particolari, però vorremmo lanciare una serie di messaggi per aiutare a riflettere, a concentrarsi su questa problematica e a capire che ci sono degli atteggiamenti che se ripetuti da molti possono avere un valore esponenziale. Non per niente la nostra festa si chiama R alla sesta, perché se queste sei attività che noi potremmo compiere in maniera semplice tutti i giorni, quindi il riuso, il riciclo, il rispetto, diventassero azioni quotidiane di tutti, potremmo effettivamente dare un valore esponenziale a quello che è il riequilibrio dei consumi nel pianeta. R alla sesta se lo fai è esponenziale il valore finale che ne ricavi. Festa della sostenibilità, vi dicevo perché è una festa sostanzialmente, quindi è un modo di ritrovarci, è un modo di socializzare, quindi ci siamo concentrati su quali potevano essere le azioni corrette per socializzare e abbiamo fatto questo programma che è ricchissimo di eventi e ricco di attività all'aria aperta, perché in tutta la festa noi non abbiamo montato e non monteremo nessuna tensostruttura, non monteremo un palco, non monteremo un impianto di illuminazione o un impianto di amplificazione, quindi tutto avverrà senza andare a sprecare, avere degli sprechi in questo senso e vedremo che ci si può divertire lo stesso, ci si può socializzare, si può stare insieme. In più ecco vorremmo proprio lanciare un messaggio legato alla moda, perché se è vero che la moda è la maggior incriminata in un discorso di sprechi, il riuso, il vintage e il comperare e trattare i capi in maniera adeguata, allungargli quindi la vita, può veramente allungare la vita del pianeta. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.